party poker love to win che cerca cerco padre maurizio sono un po in ritardo dopo quattro giorni di sofferenza siamo in itm e dopo la seconda esperienza che ho avuto tra le pt di sanremo e le vsoppi questa è la prima bandina che metto in itm spero di arrivare più a lungo possibile e onoreremo sicuramente i nostri colori forse italia saluto saluto a tutti i miei amici che mi seguono dall'italia che sono tantissimi e anche la nostra nazionale che tutto è dietro le transenne fa il tipo per me un amico di padre maurizio e benvenuto per noi prego ti accorgo veramente non sono amico sono nipote carnale party poker love to win